Federico Grasso, presidente del Golf Club di Puntaldia, si è giudicato la vittoria nel torneo di Golf Links Invitational che si è svolto dal 26 al 28 aprile nel campo di gioco di Sant'Odoro in un percorso dislocato tra l'erbetta di Puntaldia e la sabbia bianchissima della spiaggia della Cinta. Una competizione che ha visto la partecipazione di numerose personalità, tra cui l'ex campione di calcio affermato golfista Gianfranco Zola. Non è facile trovare un torneo dove si gioca metà sul campo da golf, tra l'altro in un percorso bellissimo che è quello di Puntaldia e poi nella splendida Cinta di qua di Sant'Odoro. È una combinazione fantastica veramente. Io l'ho fatto l'anno scorso e devo essere sincero anche da golfista appassionato mi sono divertito. La gara organizzata da Roberto Pompei ha messo in risalto non solo la competizione sportiva ma anche la passione e l'impegno dei suoi partecipanti. Un appuntamento che ha aperto la stagione degli eventi a Sant'Odoro, un momento molto atteso dalla comunità locale e dai turisti. La sindaca Rita Deretta ha espresso grande entusiasmo per questa competizione, sottolineando come essa contribuisca significativamente alla promozione del territorio. È il nostro terzo anno, la nostra terza edizione, è un crescendo ovviamente per noi sia come numero di persone che vi aderiscono, proprio che vi partecipano attivamente, nonché tutte le persone che arrivano ovviamente in maniera indotta da questo evento. Per noi il nostro campo da golf rappresenta comunque una chicca all'interno di un complesso e di un consorzio, tra parentesi, molto bello. E come tutti gli altri sport per noi rappresentano appunto un volano per far partire la stagione o chiudere la stagione. Durante la tre giorni si è svolta anche una cena esclusiva con i protagonisti nel circolo del Golfo a Puntaldia, offrendo un momento di convivialità e di scambio tra gli ospiti.